Via libera da oggi alle adesioni alla campagna vaccinale sul portale ilpiemonte-tvaccina.it della fascia 50-54 anni, un ulteriore passo avanti della regione che punta entro l'autunno a raggiungere una significativa percentuale di immunizzati. Entro giugno anche quarantenni e trentenni potranno ricevere la prima dose e dal 15 del prossimo mese addirittura la fascia a 16-29 anni. Lo si farà grazie alle oltre 2 milioni di dosi che arriveranno nelle prossime settimane, come annunciato dal commissario straordinario dell'emergenza, Figliuolo. Nel contempo metteranno anche i centri vaccinali. 50 sono già pronti, oltre a 857 imprese candidate come hub, ha annunciato l'assessore regionale della sanità Luigi Icardi, mentre più di mille farmacie daranno il loro contributo. Purtroppo invece la disponibilità dei medici di base rimane un'incognita. Da ieri inoltre sul portale è disponibile anche il cosiddetto memorandum vaccinale che riassume tutte le informazioni sul proprio percorso e fornisce la data e una previsione sul periodo in cui si verrà chiamati per l'iniezione. Le novità sono state illustrate nel corso di una videoconferenza dagli assessori alla sanità Icardi, all'innovazione Matteo Marnati, dai commissari e dell'unità di crisi Vincenzo Coccolo e dell'area giuridica amministrativa Antonio Rinaudo. Quella che però dovrebbe essere un'agevolazione per tutti gli utenti è partita in salita, fra indicazioni confuse e date remote. Infatti la gestione delle informazioni sarebbe affidata ad un software, unico caso in Italia, ed è proprio la mancanza del contatto umano che aveva caos, anche per quanto riguarda le cancellazioni in caso di errore. Sarebbe opportuno poter scegliere il giorno, l'orario di massima e il centro vaccinale nel quale recarsi. Hanno lamentato alcuni utenti che addirittura avevano ricevuto come data della prima somministrazione il 15 luglio, con conseguente disagio anche nell'organizzazione delle vacanze estive. Il sistema invece dovrebbe ragionare nell'arco di 10 giorni, consentendo al paziente di decidere in quale punto vaccinarsi, perché proprio la segnazione tramite algoritmi renderebbe incerta anche la disponibilità del lab segnato e delle dosi. Buone notizie invece arrivano dal fronte certificati, che dal 17 maggio si potranno scaricare direttamente dai siti internet Salute Piemonte e il Piemonte ti vaccina. Un vero e proprio documento sanitario ufficiale che indicherà dosi, tipo di vaccino ricevuto, permettendo così all'interstatario di poter accedere anche ad eventuali zone rosse e arancioni, che tuttavia potrebbero nei prossimi giorni veder mutare i parametri per il cambio di colore. Lo scenario è cambiato, ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, essendo state messe in sicurezza le categorie a rischio e aumentando la percentuale di cittadini immunizzati, tra le ipotesi valutate quella dell'RT ospedaliero e quella dell'indice legato proprio alla vaccinazione.